Questo fa parte della canzone? No, sicuramente no, è il momento in cui si accorda la chitarra, d'altronde il passaggio tra la fina vera e propria del concerto e il bis comporta sempre anche un aggiustamento. Robin Pecknall sul palco. Un piccolo intermezzo. Accorda la chitarra e questa è una nuova canzone. I let you. I let you. Forse è la volta buona. Non è che le persone facciano cose. No, c'è ancora qualche problema forse. No, c'è ancora una nuova canzone. Ok. After the band had played, you kissed my cheek. And you told me to meet you there later. So I walked through the university and auditioned your new friend, the painter. Walked for a while. Walked for a while. Walked for a while. You were there. You were there. You were wearing his jacket. He took his shirt off. As he went to port. As he went to port. Had a paperback in his back pocket. And I knew. And I knew. And I knew. And I knew. So I told you we're through. And I knew. And I knew. And I knew. So I told you we're through. So I told you we're through. I made up some excuse. But I just wanted to. Say it first. By then the bus wasn't running no more. So I sat on the couch with some no one. And I couldn't sleep. So I laid on the floor. And I heard you too. Letting your hair down. Letting it down. Letting it down. Longest night. Longest night. Longest night. Sometimes when I light a cigarette I think about the first time that I met you Outside the show, in the dirt-colored snow You offered me one, and I let you Uh 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 Questa canzone nuova l'ha detto I Let You, una nuova canzone che i Flip Foxes e Pecknold ci hanno regalato questa sera in diretta dall'Estragon di Bologna. Il bis del loro concerto ci addentriamo nella notte italiana, nella notte di Bologna, la notte brumosa, nebbiosa con questa musica, cullandoci con la musica dei Flip Foxes. Adesso sono saliti anche tutti gli altri sul palco, naturalmente c'è sempre quel minimo di pausa per prendere in mano gli strumenti, per mettersi d'accordo con un'occhiata su quello che seguirà, ma credo che le idee siano abbastanza chiare a questo punto. Ci sono brani che loro propongono abitualmente durante il bis. Noi non anticipiamo niente come al solito perché insomma non si sa mai. Eravamo partiti che la scaletta doveva avere una certa consistenza, poi il nostro amico manager di Flip Foxes è venuto qua un paio di volte e ci ha avvisato di alcuni cambiamenti. Tra l'altro...